E tu, signore, bambini, bambine, siamo pronti, è uscito Alchemy Kamigawa, è arrivato il momento di provare le cose, primo mazzo che mostrerò, Golgari Ninja, una follia, un'utopia, un sogno bagnato Toglieranno l'accisi alla benzina? Non lo so Ok, questa curva ci piace, peccato siamo on the draw Ok Ok Upp e tenace, upp e tenace No, questo lo para, è persa, è finita È finita, non connettiamo mai più, non è vero, abbiamo un sacco di drop a due evasivi Ma questo giova per vince Questo sta giocando il mazzo di Laika Sis Pessimo Magari non para, si caga Ha parato, va bene Va bene Ninja grosso vedi di Kamigawa fa un po' cacave Per quattro è meglio Nash E quanti ce n'hai di Gargoyle I Gargoyle Tra l'altro Oppo è un signore che gioca i Gargoyle Parato Eh, il prossimo turno Oppo finisce il dungeon Ninja, forza, dai Succedere prima o poi Sera sabatone Sera sabato Ok Oppo è un venture spinto aggro Ci piace Giocherà una carta nuova No Nessuna carta nuova Oppo ma lei non si diverte però Ho fatto il culo a strisce Benissimo Abbiamo tenuto una mano senza troppo a due C'è da dire Forza 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 Non mi Non mi Non mi Non mi arrendo io Non mi arrendo Ratgoyle Ratgoyle Not down Brag it up again You're never gonna make me down Passi l'acqua Ratgoyle Male Male Tengo Più sicuro Blade o draco Blade Contro dimmi Blade Attenzione turno 4 Nasci Cresci 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 Nasci Cresci Ninji Ah ma lei C'ha i ninji Anche lei Bella pescata Muori Attenzione Il mondo è notato che siamo messi già ora che lo Sanville sta volando Davvero It's tempo play boys Pronti Tempo play Tempo play Vediamo 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 Che non ce l'abbiamo anche noi ninji Se gli fotto un coso Eh non è male pescare due Ma preferisco fare il pezzo Pesso il pezzo Questa sta andando meglio E sta girando dove deve girare Abbiamo fatto top a due fondamentalmente Forte Nasci Sessione 2x1 Su tre spasser Per ninja Per ninja Cosa Cos'è che ti turba così tanto E vuoi ninja Per forza Niente Sei sicura Vuoi farmi connettere Con Nasci Di nuovo Ah sorino Vale Vale Malissimo Devo fare No Paura Cazzo Io Eh questo diventa audace Ok Ok Più scavo la merda Giusto Non ninji niente Oh Più scavo la merda Beep Beep Danni in più Tanto io al cimitero Non ho Recursion Di un cazzo Qui Ovviamente il peschino Ce l'andrebbe messo In questo mazzo Però è più da mono nero Oppo va Ad agili 1 Ello sto mazzo Bello A me piace Bello A me piace Mi da delle belle vibes Ah hanno aggiunto Questa simpatica cosa Scusa se mi dare zoom Io l'ho finito Perché mi dare zoom Ah perché ti fa vedere Semplicemente le ultime due cose Che hai fatto Interessante Interessante Piano piano Miglioria su miglioria Diventa un gioco vero Piano piano La porzione Ferrum Figlio di Goldum Oh La volevate la curva Degli dei È questa E che cazzo Porco dio Veramente Un po' Sul cazzo Mi ci stai Tanto Tanto Mi ci stai Sul cazzo Posso di Una volta Una volta Che volevo Falle cose bene Caghi la minchia In questa maniera E dai Il drop a due volante Ma chi lo c'ha Il drop a due volante Perché è tornato Chierici Ma quando Chierici è un mazzo Di nuovo Bene Bravo Bravo Tutto a posto Tutto a posto Boys Tutto a posto Coglioni Mutata Le mutata Questo pesca Un miliardo Pesca Un miliardo Pesca Sto provando Kamigalkami Certo Certo che si Ovvio Quanti ne fai Basta C'è solo Chierici E mazzo Chierici Perché c'è solo Chierici Che palle Ok Ok Liberator È bellissimo Liberator È bellissimo Io posso Prendere tutto Volendo Io Io Venendo abbastanza Al vomito Posso dire Ok Chierici No J Finita Adesso Per sempre Persa adesso Ciao Ciao Finita Bene Vabbè ho anche L'Udicchiato Forse serve un po' più di late Magari un paio di LoLt Non ci sta male LoLt In questo mazzo Per niente Tra l'altro c'hanno Menas I pippoli Ho 25 terre intanto Ok C'era qualcosa e non andava Avevo fatto degli Avevo commesso degli errori Bello Bello C'è questo mazzo Da qualche parte In questo momento noi siamo Michelangelo Col picchetto in mano E stiamo tirando fuori La statua dal blocco di marmo Dentro quel blocco di marmo C'è il mazzo Noi dobbiamo essere bravi A tirarlo fuori Guardate la piastra Sam Burro potamo Dammelo Eccolo qua Il burro potamo E' lui Stefano Attenzione si riprova Vediamo se fa un altro Troppo a uno volante Hop Battibile Fortissimo Non land La potenza di percosse Di questa persona Però c'ho un curva Però mi sa Che si fa? Si c'è un blocco? O mi fa pescà? Così deve girare Questo mazzo Prego Tocca a te Selesnya cose pessime Va bene E l'hai fatto L'hai fatto Chi sono io per dirti Che non l'hai fatto L'hai fatto Oggettivamente fatto L'hai Ok Mi mostri Le sue facezie Questo non vola Mi sa che è sborro Vedo Piccione 2-2 Che resta 2-2 Vinciamo di volanti Che bello è questo mazzo Dai Ho avuto Forse ho avuto Un'intuizione Vagamente decente Mi state dicendo Che golgari ninja Volanti Pezzi evasivi E ninja Può essere Una carta di magic Copina Ti piace questo mazzo? Si Ti piace? Si Bra Eh l'ho pagata Vai che vada 19 Uh Beh però Guardi che fa Come Ho avuto Mamma mia, ma che carta è? Ma che carta... Che carta è? Sì? Ma un paio di connessuar... Pecosa. Pecosa. Volenti. Ma questo manco è sprint, eh. Non è che lascia tanto tempo al caso. Presi. Ok, qualcosa mi è ganja. Facile. Bellissimo. Quando fa le cose... Fa le cose questo mazzo. Quando fa le cose le fa, eh. Comin' back to me now. La sfida delle sfide. Cosa tenere? Greetings, my friend. As always, it's a pleasure. June the Cosa. June the Carteno... Ah, vabbè. Crockets... Sappia... Almeno sappiamo che sarà una roba divertente. E' divertente. Ok. Cioppone. Allora. Questa è una grasp. Piccione. Dopo... Cosa li fottiamo? Cosa li fottiamo? Non lo so. Forse sta saga non ci scassa un cazzo in questo mazzo. Non serve. Bastano i twitch e i pop. La saga fa un po' schifo, un po' lenta. Non ci fa... Non ci fa... Non ci fa ninja di secondo. La saga la tolgo. Metto altro removal. Che bellina l'animazione. Quindi 3 mana, 3, 2, pesco terra. Ci sto. Perché buttare via un 3-3? No, vabbè. Attacco. Ok. E... Drop a 6. Fortissimo drop a 6. Forza. Nulla. Vabbè, ranger class. Vabbè. La favola dello spacca specchi e spicchi. No, aspetta. Allora, scarto 1. Poi scarto 2. Ok. Posso dire... Trocate... No. No. Vabbè, essere in the on ed è assoluta, ragazzi. Voce inconfondibile. Mi fai fare nasci? Beh. Hai due carte in mano. No. Hmm. Hmm. Ok. Lo faccio. Prendo una terra. Hmm. Of ruin, fountain, grounds. Può avere recursion dal cimitero? Potrebbe. Effettivamente potrebbe. Può essere. Ah, ok. Ah, ok. Ah ok Ah ok Gliela vogliamo guardare No Ok non era male toglierla Sì Non era male Per niente Non mi dispiace nemmeno fare tre danni volanti Però adesso video la verità Posso dire che questa carta non la capisco Cioè ok è card selection Ma fa un po' cagare Quanto è palese Voglio riprendermelo in mano Be my guest Be my guest Ok Fastidioso ma Ci sta Allora mi locca le pescate Quindi questo è l'ultimo Urno tecnicamente Abbiamo di Play Lui non sa che peschiamo terra Lui non sa che peschiamo terra Allora mi Ok non mi blocca più le pescate Lo sapeva secondo voi mi può bloccare Vabbè moriva Buonasera Alex Tutto apposito Ero contro Rocket Golgari Ninja Batte Jund Kikijiki Allora andiamo a togliere La saga che non c'entra niente con questo mazzo Allora 8 troppa 1 vanno benissimo Possibile che vogliamo effettivamente roba tipo Dures O il peschino Dopo la pizza presa la crocchetta sta cambiando mazzo Ottimo Cos'è? Ah è il fantaboscar mi sa E comunque Saultrez lei vi iscrive per la prima volta in questa chat quindi servi della gleba sapete cosa fare? Prendete Saultrez e portatelo in trionfo accompagnato da numerose emot coloratissime per dargli il benvenuto nel pomeriggio del server della gleba Quasi sera Allora carte ci sono piaciute un sacco Tutte Allora questa non l'abbiamo ancora provata se non l'abbiamo ancora provata se non me la merda ci abbandona Ma ti impal ninja va bene 3x 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 è forte odditi non l'abbiamo ancora vista ma è un buon drop a 4 E l'alt è uguale Ma per ora sta così Per ora sta così No no Un mazzo alla volta ragazzi Ora ve lo dico subito Non iniziamo a farmi come tutte le espansioni E esce l'espansione Io sto provando il primo mazzo E durante la prova del primo mazzo mi chiedete di fare gli altri 6 C'è tempo C'è tempo Non è vero Un mazzo alla volta Ma un samurai? Porco dio Allora Posso dire Sto Il primo mazzo che sto provando è Golgari ninja Accontentiamoci Cioè voglio dire Mi sto già dando dell'ottimo content Golgari ninja Porca puttana Cioè sto giocando Golgari ninja Ora io voglio pescare qui il ninja verde Ma ninja è incostracted ragazzi Il K è incostracted Nel frattempo Spada dell'oni Scritto tutto attaccato La spada dell'oni Mena di 4 vigilanza Travolgere Toglierà l'olto secondo voi Voglielo fare Dai Io non voglio fare graspo Non puoi Amenas Amenas Piccione 2-2 Travolgere Madonna Quanto è incazzato Quanto è incazzato Il piccione Mi ha fatto molto ridere Sei lì che stai giocando tranquillo E senti La tua ragazza Dal letto Nel totale silenzio che fa Queste cuffiette Fred Mi ha fatto molto ridere Io Seguo una religione sola Non so leggere Ne scrivere Prego Sì Wow Eh guarda quanti punti vi dai Eh appunto Boh vabbè Mazzo imbattibile Mazzo indisciplinabile Non lo so Non lo so Amore ho rotto il gioco Di nuovo Stai con il miglior giocatore di magic sulla terra Sappilo Sallo No non devi essere arrabbiata Perché hai buttato via un'ora Cercando di fare una cosa In realtà non potevi fare Devi essere fiera Del fatto che ci hai provato comunque Non hai buttato via tempo Perché te Avendo messo il tuo cervello In quella cosa Il tuo cervello ha lavorato Quindi il tuo cervello Si è allenato un'ora in più Del normale Quindi il tuo cervello È migliore di un'ora fa Non hai buttato tempo Tempo di guardare il silver lining Il silvia lining Bravo Vabbè ma che mazzo è Ma è imbattibile Ma gira benissimo Queste mani sono Posso fare una domanda Forse scomoda Riguardo magic Attenzione Esistono domande scomode Esistono domande scomode Riguardo magic No Quelli voglio il ninja Qui voglio il ninja 2 Qui pretendo il ninja 2 Spaggiamo il cazzo Vabbè orator Vabbè Dracula Dracula è simpatico Perché lei non fa più tornei competitivi Perché sono molto brutti da streammare Ho dovuto fare una scelta Il gioco competitivo di magic O la vita da streamer Ho deciso la vita da streamer Perché è quello che mi rende veramente felice Mentre i tornei Sì ok Puoi vincere le cose Ma se sono triste Non ha senso farli Quindi ho deciso che farò soltanto Li farò i tornei Ma solo se mi stanno bene Nello stream Tipo domenica E tipo i qualifier Li faccio tutti Perché sono rapidi Sono belli da vedere E roba del genere Ho già deciso però Stavolta Perché era tanto che dicevo di no Stavolta ho detto di sì Mi hanno invitato per l'ennesima volta Alla stream league Degli streamer quelli americani E ho detto Se non mi qualifico sabato Per il day 2 Faccio la stream league Quindi la farò Ma la farò senza delay E niente Sarò sempre E per sempre Con voi Amici Ovviamente Poverino Quindi questo fine settimana Non questo Il cazzo dico Il prossimo Il prossimo fine settimana Ci sarà il sabato Il day 1 Del qualifier Se mi va bene Il giorno dopo Il day 2 Del qualifier Se prendo cazzi Al qualifier La domenica Facciamo questo torneo Amerigano Ganzo E uno lo paro Perché voglio Prendere Le cose E' meglio comunque Un removal Che non si sa mai Eccolo lì L'amore mio Che bello Che sei L'amore mio Che bello Che sei Che bello Che sei Voglio terra Voglio terra Corretto Pesco Puppin to pap Fa un po' cagare Però E' meglio Di un cazzotto Vabbè poverino Comunque c'è arrivato Adamante Posso dire applausi Sono fiero Di hoppo Di scala Or 5-2 Pesco Pesco Ah It's time Quanto godo Stefano Ciao Questa partenza qui Quando la vedi Sei felice Attenzione un fratello Potrebbe essere qualcuno in chat Che sta già provando questo mazzo E' che voglio terra io Mi vuoi sempre non terra Ciao Jastread Questo è uno dei ninja più forti del gioco No è un Grull Ok Eh Hmm Hmm Oh volare esplode Dov'è il problema Pesca pesca Quanto fixa la mano sto schifo Ma quanto cazzo è forte Ma stiamo scherziamo Quanto è forte sta carta Ok io l'avevo detta era sbroccata Ma non così Cioè la dovevo provare Per capire quanto era forte Madonna Mi fa la mano come cazzo vuoi Cioè io Splasho di verde tutti i mazzi Perché faccio Mono white Col verde per lui Praticamente Non è un'altra cosa 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 Io non ho parole Cioè È troppo forte È bellissima Bene che sia forte così Ok bro È quello che ti fa Fa Ubuntu and Harvest Ogni volta che connette Fa Ubuntu and Harvest È pazzesco Oh sono da 14 Per ora mi tengo al mana Che poi Iniziare a fare subito tre danni L'ho rotto Iniziare a fare tre danni di secondo Chiude anche molto presto Sto schif E gli zitto 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 Oh yes Che mazzo Madonna ma t'è bello sto mazzo Ma t'è bello sto mazzo Non ce la faccio È bellissimo Ho fatto un po' la maffata È un po' una maffata Può essere Ma questo spende il favorite subito È meraviglioso Stupendo Gira da dio Perché questo coso è rotto Questa non l'abbiamo ancora giocato Quindi non so se è forte o meno Secondo me non lo è Però non l'abbiamo ancora droppato Secondo me è meglio 4 Dracula Per ora lo lascio Il discorso di dire È la carta nuova Ce l'ho messa Però non l'ho ancora messo in campo una volta Dracula sì E Dracula volando E facendo blood token Il suo lo fa Che poi è blood tears Cazzo Voldaren blood caster Peschino bello Odditi non so ancora Se ci sta bene in questo mazzo Non secondo me è un 4-4 Rapido Travolgere in un mazzo Che pecchia In questa maniera Ci sta sempre bene 3 palma Mi sembrano giusti È comunque il ninja Questo lo voglio vedere sempre Quindi questo è fondamentale Le carte ineccepibili Sono 1-2 E questa roba qua È il mazzo Fondamentalmente Il fatto di fare Ai twitch E liberator Nasci uno Per molto forte Molto forte Che peraltro è un drop a 4 Quindi mi sta bene in curva L'alt è perfetta Ho visto bene Di mettere alt Blade of the only Mi sembra piuttosto forte Per il fatto del mana Se devo vedere Se voglio andare a 4 blade Secondo me no Secondo me è meglio Il volante 2 ranger class Ci stanno Ma ranger class Dà valore Capito Spaghetti È ok che questo pesca Però ranger class In late game Attivi il 4 Secondo me è molto bello Sto mazzo 4 removal Ce lo facciamo andare bene Bello Un story Non lo vuoi Potresti volerlo Ma non ne sento il bisogno Mazzo Mena Mena forte Wow Wow Veramente Faccio lo best of 3 Non credo È impossibile adesso Fare best of 3 Appena al meta Capiamo quali sono I mazzi forti Si può fare una side Per battere I mazzi forti Ora non sappiamo Osa uscirà Da alchemy Quindi è inutile Giocare best of 3 In questo momento Appena usciranno Uscirà un abbozzo di meta Farò le side Dei mazzi E magari troviamo Una side Anche per questo Per ora Non mi dispiace Con le twitch Cioè è talmente sinergio Che probabilmente La mia side Sarebbe comunque Con almeno 4 Lezioni Forti E poi il resto Bello 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 Bello